Ben ritrovati amici telespettatori, abbiamo scoperto, forse qualcuno già lo sapeva, ma la maggior parte degli italiani che hanno avuto la possibilità di attingere queste informazioni che stiamo per darvi hanno scoperto che le crisi, le crisi economiche, che talvolta sono anche conseguenza di crisi di natura diversa, in realtà non sono per tutti una disgrazia, anzi per qualcuno sono addirittura una manna che non possiamo certo definire arrivi dal cielo, ma certamente per alcuni le crisi economiche diventano un fattore di crescita economica. Insomma quello che è venuto fuori è che durante le crisi economiche i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri. E questa fotografia della realtà, che poi è la realtà anche del periodo che stiamo vivendo, è venuta fuori in particolare dal quotidiano avvenire del 16 gennaio di martedì scorso. Avvenire in taglio medio titolava nel pianeta dei ricchi la forchetta si allarga, Davos, Oxfarm, crescono le disparità globali. Dal 2020, quindi dall'inizio della pandemia, i cinque uomini più ricchi al mondo hanno visto più che raddoppiato le proprie fortune, cioè le fortune dei cinque uomini più ricchi al mondo dal 2020 sono cresciute esattamente del 114%, mentre i 5 miliardi di persone più povere del pianeta hanno visto complessivamente invariata la propria condizione. È solo uno dei dati che emergono dal nuovo rapporto Oxfam, diffuso in occasione del World Economic Forum di Davos appena inaugurato. In Italia, segnala ancora lo studio della ONG britannica, la ricchezza in mano al 10% più ricco è pari a 6,7 volte la media del Paese. E questa notizia che ha caratterizzato l'inizio del convegno di Davos la ritroviamo solo ed esclusivamente sulla prima pagina del quotidiano avvenire. Il 16 gennaio, quindi martedì scorso, gli altri quotidiani hanno completamente ignorato il convegno di Davos o se ne hanno parlato la loro attenzione è andata su altri aspetti. Il Corriere della Sera, per esempio, in posizione di spalla parla di Davos ma ci ricorda che quello di martedì era il giorno di Zelensky e che il vertice di Davos avrebbe dovuto avere un'attenzione per la pace. Quindi della ricchezza sempre maggiore dei ricchi e della povertà sempre maggiore dei poveri il Corriere della Sera almeno in prima pagina non fa menzione. La stessa cosa possiamo ritrovare sul quotidiano Il Giornale dove peraltro il vertice di Davos il 16 gennaio probabilmente non si è fatto giudicare dall'assenza completa in prima pagina sul quotidiano Il Giornale dell'Argomento. Così come un quotidiano che dovrebbe essere attento alle necessità del proletariato, alle necessità degli strati più poveri della società, la Repubblica, il 16 gennaio parla in maniera molto succinta del vertice di Davos sempre riferendosi a Zelensky, troviamo l'argomento soltanto nel sommario, Zelensky annuncia per l'Ucraina un vertice di pace in Svizzera. Per il resto il quotidiano La Repubblica evidentemente ritiene che sia più importante per l'opinione pubblica conoscere le ultime novità del Festival di Sanremo a cui dedica una fotonotizia con un titolo di grande evidenza. Ma neppure nella giornata successiva, il 17 gennaio, la Repubblica ha ritenuto utile occuparsi non tanto di Davos, perché l'accenno c'è sempre nel sommario, ma sempre con l'attenzione agli aspetti di carattere economico e alla situazione della guerra fra Ucraina e Russia. E quindi troviamo in prima pagina sulla Repubblica, nel sommario, Davos, muro dell'Unione Europea all'export cinese, poi Zelensky, Putin è un predatore, una definizione di Zelensky. Quindi soltanto il quotidiano avvenire ritiene opportuno denunciare in prima pagina il fatto che durante questo ultimo periodo, questi ultimi anni di crisi dovuta alla pandemia e dovuta successivamente alle guerre, durante questo periodo di crisi economica con queste motivazioni, i ricchi si sono arricchiti sempre di più. E tra l'altro il quotidiano avvenire a pagina 5, dedica molto approfondimento a questa notizia, è una pagina intera dedicata a questa notizia con un articolo, diciamo di cronaca, che riporta le cifre più significative che emergono dal rapporto Oxfam presentato a Davos, articolo firmato da Ilaria Solaini sotto il titolo in un mondo con sempre più miliardari, la disuguaglianza si sta facendo esplosiva. E poi c'è anche un commento affidato ad un esperto, un professore universitario di economia. Ma leggiamo alcuni dei numeri, delle cifre che Ilaria Solaini mette in questo articolo che troviamo a pagina 5 del quotidiano avvenire. Tra luglio 2022 e giugno 2023, per ogni 100 dollari di profitto generati da 96 tra le imprese più grandi al mondo, 82 dollari, sono fluidi agli azionisti sotto forma di dividendi o operazioni di riacquisto di azioni, anziché essere investiti nello sviluppo delle aziende. Quindi c'è stato un profitto puro, ecco una delle cause di questa ricchezza sempre maggiore nelle mani di pochi, il profitto è finito nelle tasche degli investitori, degli azionisti. E poi continua l'articolo, sempre con le cifre che derivano dal rapporto Oxfam. Per quasi 800 milioni di lavoratori occupati in 52 paesi i salari non hanno tenuto il passo dell'inflazione, anzi il monte salari ha visto un calo in termini reali di 1500 miliardi di dollari nel biennio 2021-2022, una perdita equivalente a quasi uno stipendio mensile da 25 giorni per ciascun lavoratore. Tento di spiegare meglio il concetto visto che è riferito sulla base di cifre e di dati ma che vanno un tantino spiegati meglio. Che cosa significa tutto questo? Che i ricchi durante la crisi sono effettivamente diventati sempre più ricchi, la loro disponibilità economica è aumentata. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i salariati non hanno avuto una diminuzione degli stipendi, cioè non c'è stata una riduzione, una decurtazione di stipendi. Gli stipendi sono stati invariati, ma di fatto è come se questi stipendi fossero stati ridotti perché questi stipendi per via dell'inflazione hanno perso il potere d'acquisto. Per cui se prima con uno stipendio un lavoratore, un lavoratore dipendente, un impiegato, un operaio poteva permettersi x cose in un mese, oggi si può permettere x cose meno y, quindi può permettersi di comprare meno cose perché quello stesso stipendio, quello stesso salario, quella stessa retribuzione oggi ha un valore sul mercato minore rispetto a prima. E' stato quantificato questo valore come se in un anno il lavoratore dipendente, il salariato, l'operaio prendesse quasi uno stipendio in meno. Questa è la realtà che viene fotografata da questo rapporto presentato al forum di Davos e che la maggior parte dei quotidiani italiani ha deciso di ignorare o comunque confinare in angoli reconditi delle pagine interne perché ovviamente questa cosa che pur interessa la stragrande maggioranza dei cittadini, perché tra l'altro nel rapporto si fa riferimento al fatto che anche in Italia in questo periodo, in questi ultimi anni c'è stato un incremento delle ricchezze di pochi ricchi e una diminuzione del potere d'acquisto dei lavoratori salariati, dei dipendenti, ecco evidentemente i quotidiani hanno ritenuto che questa notizia non interessi la stragrande maggioranza della popolazione. Tutto questo lascia perplessi, tutto questo fa sorgere degli interrogativi sulle cause di questa crisi che favorisce soltanto i ricchi, sul perché c'è un silenzio quasi totale, salvo appunto abbiamo visto il quotidiano avvenire su questo argomento e quindi pone delle domande e noi vogliamo farci aiutare nel trovare le risposte a queste domande. Per questo subito dopo un breve stacco pubblicitario noi ci collegheremo con un professore universitario, il professor Tommaso Cozzi che insegna all'Università Pontificia Regina Apostolorum di Roma e che tra le materie del suo insegnamento c'è anche modelli etici di sviluppo economico. Siccome ci troviamo di fronte ad un modello poco etico di sviluppo economico vogliamo capire insieme a lui perché succede tutto questo e perché c'è questo silenzio quasi totale. Restate dunque con noi, dopo la pubblicità approfondiremo l'argomento. E come preannunciato siamo collegati in videochiamata con il professor Tommaso Cozzi, docente presso la Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma e tra le materie di insegnamento del professor Cozzi c'è proprio modelli etici di sviluppo economico e quindi chi meglio di lui ci può aiutare a capire perché in un periodo di crisi, crisi diciamo legata alla pandemia, crisi legata alle guerre, crisi che poi hanno avuto i loro effetti sull'economia e quindi da queste crisi diciamo di di altra natura, poi abbiamo avuto una crisi economica ma abbiamo scoperto che queste crisi economiche colpiscono soprattutto i ceti meno abbienti mentre paradossalmente i ricchi diventano sempre più ricchi. Come si può spiegare questo fenomeno? Buongiorno a tutti. C'è anche una situazione di coincidenze che non riusciamo a sapere quanto volute, cioè la sovrapposizione delle varie crisi. Quindi da un lato veniamo fuori più o meno dal covid, poi la crisi alimentare, le due macro guerre che non sono in realtà gli unici due conflitti che esauriscono il panorama delle guerre nel mondo, si sono sovrapposte. Quindi già quando c'è una situazione di crisi di tipo univoco, le situazioni di chi è in stato di indigenza diventano davvero difficili. Immaginiamo quando poi appunto le crisi si sovrappongono. Quindi questo è un primo dato. esatto. Dicevo, non sappiamo quanto casualmente, perché credo che si debba riflettere anche sulla concomitanza della conseguenzialità delle varie crisi. Detto questo, il fenomeno era già cominciato qualche decennio fa. Se a fine degli anni Ottanta noi potevamo stimare che il 20% della popolazione mondiale deteneva l'80% della ricchezza, che significa al contrario che l'80% della popolazione mondiale viveva con il 20%, questa forbice oggi si è allargata, perché in realtà parliamo dell'1% dei super ricchi nel mondo che governano la ricchezza dell'intero pianeta. Ci sono delle domande da possibili, sia in termini di equità, sia in termini di politiche nazionali e internazionali, sia in termini di redistribuzione della ricchezza. Quindi dovremmo dedurre che, visto che la maggior parte degli stati del mondo sono governati da democrazie, che c'è qualcosa che non va in queste democrazie, visto che a votare nella maggior parte dei casi non è quell'1%, ma è la stragrande maggioranza di quelli che invece la crisi la subiscono. C'è qualcosa che non va nella politica o il meccanismo dell'economia che è distorto? Io penso che il problema possa essere di altra natura, e cioè che dal mio punto di vista c'è una crisi molto forte di leadership etica. Allora, che la stragrande maggioranza della popolazione voti democraticamente è una situazione di fatto acquisita e direi meno male che è così. Perché d'altro canto chi vota ha fiducia nel personaggio politico a cui dà la delega per governare. Il problema è di management, il problema è di leadership. Probabilmente c'è una visione, sia a livello di politici che a livello di economisti, una visione che non mette la persona al centro. Quindi un esercizio della leadership basata solo ed esclusivamente sulle dinamiche economico-finanziarie che però non tengono conto della vita reale e quindi delle persone al centro di tutte le dinamiche economico-finanziali. Anche questo risulta difficile da capire, visto che i politici sono al servizio dei cittadini e in particolare al servizio della maggior parte dei cittadini, un suo collega dalle colonne di Avvenire, il professor Leonardo Becchetti, ipotizza una concomitanza con il fatto che a finanziare le campagne elettorali siano coloro che hanno in mano il potere economico e quindi alla fine chi viene eletto deve in qualche modo ringraziare o ingraziarsi chi è stato il suo sponsor. È una tesi che lei condivide? Beh, è una tesi che direi soprattutto negli Stati Uniti è valida, quindi nelle grandi potenze commerciali ed economiche occidentali. Dove così non è, scattano invece dei condizionamenti di carattere politico, di carattere culturale, dove anche le migliori intenzioni espresse in campagna elettorale poi fanno i conti non con la realtà del sociale o con la realtà delle situazioni di precarietà, ma con delle direttive che ripeto non mettono più la persona al centro delle dinamiche, ma che mirano esclusivamente da un lato al mantenimento di status quo, di equilibri a livello internazionale e dall'altro lato purtroppo ad alimentare sempre più il vertice della piramide che detiene la ricchezza mondiale. Perché in realtà il problema della ricchezza visto in un'ottica un po' più ampia non riguarda solo i fenomeni economici, ma riguarda proprio la capacità di gettare gli stili di vita, la capacità di indicare come sviluppare la nostra cultura, che cosa guardare in televisione, come vestirci, quindi il tema della concentrazione della ricchezza è un qualcosa che va molto al di là della ricchezza in quanto tale. Tra l'altro la fotografia che viene scattata dal rapporto Oxfam non è sicuramente positiva, ma è ancora meno incoraggiante lo sguardo al futuro che questa fotografia proietta e dal comunicato stampa infatti del rapporto si evidenzia che ai ritmi attuali ci vorranno oltre due secoli per la precisione 230 anni per porre fine alla povertà, ma nel giro di un decennio potremmo avere il primo trilionario, cioè potremmo avere una persona con un patrimonio superiore a mille miliardi di dollari, ma è successo nella storia dell'umanità, quindi la prospettiva è ancora peggiore della situazione attuale. A questo punto viene da chiedersi chi può fare qualcosa e che cosa si può fare, se è possibile fare qualcosa ovviamente? Allora già il fatto che in Italia l'indagine Oxfam sia stata ripresa solo da Avvenire credo che sia significativo, nel senso che Avvenire ha riportato i macro dati contenuti nell'indagine e ha effettuato delle riflessioni corrette, ma dal punto di vista degli altri media, sia di carta stampata che di social che televisivi, ci si deve chiedere come mai si è calato il silenzio. La risposta probabilmente è ciò che dicevo prima, e cioè che ci sono evidentemente degli interessi molto molto forti che hanno come strumento il concentramento della ricchezza, ma che mirano in realtà a dettare gli stili di vita. Proviamo a pensare al problema della denatalità, di cui purtroppo nella nostra nazione abbiamo riprimato. Il problema della denatalità non si può affrontare in maniera semplicistica o con delle misure di tipo occasionale. nel momento in cui non si sviluppa una cultura della vita, di conseguente, in generale quindi si richiama anche il discorso del suicidio assistito, dell'eutanasia eccetera, quindi la cultura della vita in senso ampio, le politiche familiari sono destinate a fallire perché appunto sono politiche, non sono visioni della persona, non sono visioni delle dinamiche di vita in quanto tale. Ora che ci vogliano appunto qualche centinaio di anni per una cosa che dovrebbe essere invece nella natura delle dinamiche di redistribuzione della ricchezza, la dice lunga su quella che poi è la volontà appunto delle leadership mondiali di incidere su questi fenomeni. Ripeto, c'è un problema di leadership etica, c'è un problema di management, se noi andiamo a vedere anche le retribuzioni di vari amministratori delegati eccetera, che non hanno una proporzione di equità rispetto a chi produce poi il lavoro, produce a livello di base la ricchezza, chiaramente ci rendiamo conto delle disuguaglianze, ma anche se noi ci fermiamo a riflettere per esempio sulle dinamiche retributive del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, evidentemente c'è una chiusura egoistica che spinge appunto a non guardarsi attorno e a non rilevare quelle che sono le dinamiche di bisogno e di povertà che sono sempre più presenti nella nostra società. Quindi mi pare di capire che, aggiudicato dal fatto che l'unico quotidiano che ha evidenziato queste ingiustizie è stato avvenire e che per il resto c'è un tacere assordante che forse la Chiesa è l'unica agenzia tra virgolette etica in grado di prendere questi dati e farne una sorta di battaglia ideologica per tornare a dei principi di uguaglianza fra gli uomini, visto che tra l'altro non soltanto c'è stato un silenzio generale, ma persino quei partiti di massa o eredi dei partiti di massa hanno taciuto e continuano a tacere, così come i giornali quotidiani legati a questi partiti sembrano non essersi accorti di quello che sta succedendo non solo nel mondo ma anche in Italia perché i dati fotografano anche una situazione di disparità fra ricchi e poveri sempre maggiore anche in Italia. È così? La Chiesa da sempre è stata una voce critica nei confronti delle disuguaglianze il Papa ormai da quando si è insediato diciamo che noi conosciamo il suo pensiero nell'ultimo dici anni ma se vediamo la storia del Papa sappiamo che lui ha sempre lavorato per diminuire le disuguaglianze d'altro canto la stessa voce della Chiesa non può essere blandita solo per fare audience e poi magari quando il Papa interviene su questioni delicate quali la morale eccetera anche lì si vanno a selezionare le sue affermazioni con le pinze e non è raro il caso in cui lo stesso Papa viene oscurato dai grandi media italiani. Che la Chiesa sia una voce critica e che spinga a fare una riflessione e poi ad essere conseguenziali rispetto a queste riflessioni è un dato di fatto. Il problema è che come diceva il direttore da parte dei grandi media che poi fanno la cultura quotidiana l'ignorare questi fenomeni credo che sia non una semplice dimenticanza ma una volontà di cavalcare appunto la situazione di crisi che è in corso. Ringraziamo allora il professor Tommaso Cozzi che ci ha dato degli elementi di riflessione non solo sulle cause di questa sempre maggiore divergenza fra ricchi e poveri ma anche per averci dato gli strumenti in particolare a noi che ci sentiamo parte della Chiesa per cominciare a reagire in maniera sempre più forte perché evidentemente queste istanze ci appartengono e devono essere fatte anche nostre in un'azione concreta che di fatto si trasformerebbe in un'azione di carità. Grazie anche a voi amici telespettatori per esserci stati vicini anche oggi. Grazie a tutti.